ciao a tutti ragazzi nuovo arrivo oggi vi voglio far vedere questo nuovo caricabatterie della top don top don ragazzi che sto avendo sempre ottimi risultati sempre più buoni prodotti e vi dico mi sto trovando molto molto bene e proprio per questo vi voglio far vedere questo caricabatterie che oltre a caricare la batteria prima di caricare fa anche il test della batteria in modo da avere un unico prodotto un unico attrezzo sempre completo per ogni evidenza quindi oltre a ricaricare prima di fare la carica fa un check alla batteria in modo da avere una carica più specifica più corretta per il tipo di batteria e soprattutto per come in quel momento la batteria questo andiamolo subito a vedere questa è la confezione che arriva qui possiamo vedere già alcune caratteristiche naturalmente per quasi tutte le batterie per appunto per auto moto barche eccetera eccetera ma ora andiamo a vedere nel dettaglio come già questo ragazzi far vedere subito già la confezione come è ben imballata e andiamo a vedere cosa troviamo nella confezione ecco qui cominciamo subito dal manuale di istruzioni che in quasi tutte le lingue in inglese francese tedesco spagnolo e naturalmente c'è anche l'italiano dopodiché andiamo a vedere quest'altro cavetto qua prima di tutto può essere messo in modo permanente su un appunto sulla batteria su un qualche mezzo che abbiamo per esempio in garage qualche moto qualche macchine che non utilizziamo sempre abbiamo la possibilità di collegarlo direttamente sulla batteria e avere questo connettore sempre pronto per un eventuale ricarica per il mantenimento della batteria quindi già un altro un'altra applicazione che può essere molto molto comoda ma ora andiamo a vedere il carico a prima di tutto i morsetti che come sempre quelli top down sono sempre tra i migliori poiché sono grossi che hanno una molla molto forte molto rigida quindi per collegare bene sul morsetto il più e per il meno anche i cavi sono di un buon spessore non sono sottili e qui per scollegare e collegare quest'altra applicazione la presa non può essere messa in modo errato poiché ci sono i connettori dentro che sono più piccoli e più grossi quindi di conseguenza non può essere messo in modo errato ecco qui ad esempio se volessimo collegarlo in questo modo non va abbiamo solo un modo per collegare diamo il caricabatterie vero e proprio utilizzano plastiche di buona qualità qualche informazione del prodotto vediamo anche questi gommini in modo che non possa ricevere colpi non scivola quindi curato nei minimi dettagli questo è l'altro cavo che vi dicevo sempre molto spesso e qui il cavo per il collegamento alla presa di corrente anch'esso molto lungo quindi se abbiamo la presa di corrente al muro lontana non abbiamo problemi poiché abbiamo una buona 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 lunghezza e questo ragazzi in linea generale qualche informazione veloce del prodotto in più questa versione il tb6000 pro è anche bluetooth praticamente la top don ha sviluppato una un'applicazione per poter collegare il caricabatterie a un qualsiasi smartphone sia android sia apple quindi possiamo monitorare e tenere sotto controllo e anche gestire la ricarica che può fare questo tipo di prodotto direttamente dallo smartphone è sempre di conservare anche i dati che poi man mano andremo a vedere e a registrare sullo smartphone quindi veramente un prodotto molto molto avanzato ma ora direi di andarlo a provare su una batteria come funziona eccoci qui ragazzi faremo qualche prova su questa batteria da 12 volts 74 ampere andiamo subito a vedere in che condizioni è questa batteria con un normale tester andiamo a vedere e ci da 12 e 2 12 e 3 quindi una batteria abbastanza scarica naturalmente la top don oltre a darci la possibilità di utilizzare lo smartphone con l'applicazione noi possiamo utilizzare questo caricabatterie anche in modo normale senza bisogno dell'applicazione in modo molto più veloce e ora faremo prima questa prova andiamo prima di tutto a collegare i cavetti ok e ora voglio provare anche a collegare i cavetti all'incontrario praticamente questo è il meno e gli metterò il più e viceversa anche qui come vediamo il caricabatterie non si avvia non ci da nessuna funzione andiamo a mettere i cavetti nel modo corretto quindi più con il più il caricabatterie si è avviato cominciamo a vedere cosa ci dà il display vediamo la scritta bluetooth per il collegamento appunto allo smartphone e in alto qui 12 volts norm qui cominciamo a vedere i sei modi per ricaricare la batteria che possiamo cambiare tramite questo pulsante 12 volts norm sarebbe per la stragrande maggioranza di batterie praticamente sarebbero quelle a gm quelle fb quelle al gel quella al piombo come questa praticamente si utilizza questo modo qui andando avanti abbiamo 12 volts rep questo ci dà anche una possibilità di riparare delle batterie che al momento non sono buone per esempio delle vecchie batterie o delle batterie solfatate una ricarica impulsi di riprendere quel tipo di batterie andando avanti abbiamo 12 volt sup questo in questa modalità fornisce un'alimentazione fissa praticamente abbiamo una tensione costante di 13 vols e mezzo per delle batterie che magari non sono più buone e con questa modalità qui cercava di forzare la ricarica e di far riprendere la batteria andando avanti abbiamo 12 volts small serve per quasi tutte le batterie sempre a gm al gel e fb al piombo eccetera eccetera che però non superano i 50 ampere di potenza andando avanti abbiamo 12 volts lì questa modalità qui serve per caricare le batterie agli ioni di lidio quindi possiamo caricare anche quel tipo di batteri sempre 12 volts e sono incluse anche quelle al lidio ferro fosfato andando avanti abbiamo sei vols norm che praticamente sarebbero per le batterie se volse quelle più piccoline e andrà a caricare a un voltaggio se vols 3 ampere fatto questa piccola premessa vi posso dire che questo carica batteri andrà a caricare in nove step diversi prima andrà a controllare lo stato iniziale della batteria poi andrà a caricare la batteria con corrente impulsi dopo di che andrà a caricare la batteria con una corrente a basso voltaggio poi ci saranno altri stati fino all 80 per cento poi fino al al 90 per cento eccetera eccetera quindi è una ricarica molto molto complessa per caricare la batteria nel migliore dei modi possibile impostato il modo di carica di questa batteria in questo caso noi andremo a mettere 12 volts norm andiamo a collegare la spina elettrica al muro e mettiamo in carica la batteria fatto questo per avviare la carica in modo veloce normale senza bisogno di smartphone nient'altro andiamo a schiacciare due volte sul tasto qui al centro in modo veloce ora in questo momento sta controllando la batteria ci da un 25 per cento di carica in questo momento e ora stava guardando i parametri della batteria 12 volts ecco qui ora sta cominciando a caricare si aggiornerà ogni 23 secondi ecco qui vedete sta caricando a 1,5 ampere continuiamo a vedere ancora 1,5 ampere perché avendo fatto il test della batteria non sta dando troppa troppa corrente in modo da caricarla un po alla volta in base alle condizioni di questa batteria come vedete ragazzi sta cominciando a salire 12.3 considerando che prima era 12.1 12.0 quindi già abbiamo in pochi secondi che abbiamo collegato già abbiamo qualche miglioria ecco vedete ora è salita a 2.3 ampere 12.4 la ricarica vera e propria 13 3 ampere quindi vedete ragazzi non è stabile il modo di ricarica in base al tipo di batteria e soprattutto alle condizioni della batteria in questo momento quindi direi di lasciarla caricare per qualche minuto ma già come vediamo già ci dà 12.6 quindi la batteria in pochissimi pochissimi quindi è passato penso un minuto nemmeno già sta cominciando a prendere una buona buona ricarica ci sta dando anche il 35 per cento dal 25 per cento iniziale naturalmente quando la batteria avrà raggiunto lo stato ottimale si spegnerà da solo ora vorrei provare l'altra possibilità con l'applicazione per lo smartphone ok prima cosa da fare è andare a scaricare l'applicazione io userò android in questo caso quindi andiamo sul play store andiamo qui andiamo a scrivere tb io già avevo fatto la prova 6000 pro andiamo a cliccare e vediamo eccola qui l'applicazione e facciamo installa ok attendiamo l'installazione e facciamo apri ed ecco l'applicazione di questo prodotto come vediamo tb 6000 pro ci dice subito che il bluetooth è scollegato abbiamo tre opzioni come ricarica intelligente ricarica rapida e la gestione dei test praticamente se facciamo vari test andarli a riprendere per poterli vedere con calma naturalmente c'è anche qui sempre la registrazione della carica le prove fatte ovviamente non c'è nulla non ho fatto ancora niente e qui per iscriversi per fare l'accesso direttamente all'applicazione andiamo qui in home e andiamo a connettere l'applicazione al carica batterie qui sotto andiamo a schiacciare dove vediamo ecco qui la connessione facciamo consenti ed eccolo qui ragazzi l'ha rilevato e b6000 pro andiamo a schiacciare e ora si sta collegando ecco qui collegato vediamo che qui non lampeggia più e praticamente ora possiamo fare tutto da smartphone tipo di ricarica intelligente praticamente la gestione della carica come abbiamo visto poc'anzi con le sei opzioni di ricarica 12 forse normale modo ripara ricarica small eccetera eccetera possiamo anche aggiungere alcune vediamo ancora che c'è anzi mandiamo abbiamo facciamo una ricarica di prova quindi mettiamo normale andiamo qui a vedere quale batteria dobbiamo inserire qui ci dà questa opzione di scelta quindi una batteria regolare non è agm non è al gel normale quindi mettiamo batteria normale qui batteria standard vediamo cosa ci dà dobbiamo scegliere n in questo caso anche qui vediamo nella lista facciamo n valore della batteria vediamo cosa ci dà praticamente dobbiamo mettere 680 ampere 680 vediamo cosa succede poi ci dà anche un orario praticamente noi avendo sempre la corrente collegata al caricabatterie possiamo impostare un orario a noi più comodo per far ricaricare la batteria facciamo una prova giusto per non sarà salvata comunque non ci interessa questo ecco qui ci dà un orario di inizio tempo continuo eccetera eccetera non ci interessa e ora andiamo ad avviare la carica ora sta facendo i primi test per la batteria vediamo cosa succede ed ecco qui ragazzi come vedete il carica batterie è partito sta facendo la ricarica come abbiamo visto poc'anzi in più naturalmente sull'applicazione ci darà tutti i dati di ricarica ora in questo momento sta caricando a 04 ampere e qui abbiamo tutto lo schema completo della batteria man mano ecco ora sta salendo 1.2 ampere e infatti qui vediamo la scala e con tutte le informazioni 25 per cento 25 per cento tempo di ricarica noi non l'abbiamo messo potenza di carica modalità di carica batteria al piombo come questa e quindi ragazzi come vedete e qui abbiamo tutti 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 i parametri ora siamo saliti a 1.5 e abbiamo tutte tutte queste informazioni andiamo a vedere qui carica cosa c'è ecco qui ancora altri parametri che possiamo monitorare che veramente ancora non so questo quale sia comunque abbiamo molte 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 cose da vedere andiamo indietro esempio qui ci sta dando la ricarica ci fa capire che sta caricando andiamo di nuovo a vedere dove stavamo prima ecco qui il grafico di prima che si sta formando proprio sotto i nostri occhi e man mano che ricarica andiamo a gironsolare ancora andiamo a vedere qui la carica di prima andiamo a vedere se vado qui si carica rapida cosa ci dà ancora altre informazioni e su questo ecco qui possiamo fare il test della batteria test di ricarica test di avviamento quindi abbiamo ancora molte molte cose da vedere andiamo ecco qui dove stavamo prima e ora facciamo interrompi la ricarica vediamo che succede interrompere la ricarica ci da conferma conferma ok ora abbiamo interrotto la ricarica e andiamo a vedere un po di test gestioni test test della batteria ecco qui ragazzi qui ci da ancora altre altre cose verifica lo stato della batteria ora in questo caso eccoci da come collegare la batteria con i morsetti non è nemmeno necessario collegare la spina alla corrente elettrica e ora possiamo fare già un test vediamo cosa ci da ecco qui ora andiamo a mettere il tipo di batteria batteria regolare e n valore della batteria 680 fatto prossimo ecco qui abbiamo già un altro grafico e ci dice che questa batteria deve essere sostituita infatti ragazzi l'ho dovuta l'ho dovuta cambiare 24 per cento stato di carica 72 per cento valore del test ecco qui 333 ampere contro i 680 che doveva essere quindi una batteria andata ora se faccio salva posso salvare tutti i dati di questa batteria lo schema e magari guardarmelo con calma e averlo già nello smartphone andiamo indietro tanto questo ragazzi lo possiamo anche mettere qui perché possiamo fare tutto da smartphone andiamo a vedere anche il test di ricarica verifica dello stato di salute del sistema di carica del veicolo quindi possiamo utilizzare questo prodotto qui anche per sapere se il la nostra auto la nostra moto sta caricando in modo corretto praticamente l'alternatore che sarebbe quel gruppo che ricarica costantemente la batteria se lavora in modo corretto ci dice di collegare tutte le varie cose eccetera eccetera naturalmente non funzionerà non possiamo fare questo test ecco vedete ci dice avvia il veicolo quindi se avessimo collegato la batteria ad una qualsiasi auto potevamo fare anche questo test dell'alternatore per vedere se stava caricando in modo corretto usciamo e andiamo a vedere test di avviamento quindi test di avviamento sicuramente si riferisce all'auto andiamo a vedere verifico stato di salute della batteria andiamo a fare prossimo ecco qui anche in questo caso ragazzi ci dice di spegnere tutte le cose accese che possiamo avere in macchina qualsiasi cosa ed avviare il veicolo quindi questa è un'altra prova che oltre a vedere le batterie eccetera eccetera possiamo fare direttamente sotto auto quindi ragazzi come vi dicevo prima veramente veramente un attrezzo che può essere utilizzato a 360 gradi a livello di corrente a livello di gestione della parte elettrica dell'auto sempre sul motore come alternatore batteria avviamento eccetera eccetera veramente devo dire un prodotto completo in più come abbiamo visto finora anche con l'applicazione per chi vuole usare l'applicazione o altrimenti può caricare normalmente come abbiamo visto poc'anzi senza bisogno dell'applicazione ok ragazzi penso di aver detto più o meno tutto ma sicuramente non tutto e questa è una prova che abbiamo fatto con questo nuovo carica batterie della topton come sempre ragazzi vi ringrazio per avermi seguito per tutti questi minuti e grazie a tutti per l'attenzione e al prossimo video a tutti per l'attenzione e al prossimo video